10 5 4 3 2 1 vai sinistra piena subito resta 5 e subito tornante sinistro apre occhio alle gomme tornante sinistro apre 100 vai al palo tornante destro tornante destro in sinistra 4 alle gomme destra 4 30 al palo destra 4 destra 4 e subito tornante sinistro subito tornante sinistro 20 sinistra 5 e al gareggio destra 4 al re il destra 3 in sinistra 2 e subito destra 3 lunga apre subito destra 3 lunga apre per destra 5 apre vai 50 sinistra 4 e subito tornante destro subito tornante destro 70 alla casa stacca tornante sinistro tornante sinistro e destra 5 chiude 3 al palo e alle gomme sinistra 5 lunga subito destra 3 subito destra 3 e subito sinistra 2 vai subito sinistra 2 vai 20 sinistra 4 vai 20 al palo destra 5 fidati vai 100 fidati vai 100 al rosso là in basso destra 5 in sinistra 3 5 in sinistra 3 per subito bivio destro sale in compressione bivio destro sale in compressione 50 al cartello dosso scende sinistra dosso scende sinistra 30 destra 4 e subito tornante sinistro guarda che poi il tornante sinistro ti diventa sinistra 3 in destra in sinistra piena stacca tornante destro stacca tornante destro in sinistra 30 stacca tornante sinistro vai 30 stacca tornante sinistro vai per destra 4 forse taglia subito tornante destro vai 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 subito tornante destro in sinistra 3 in sinistra 5 subito destra 4 e al rosso sinistra 3 3 subito destra 3 20 alle gomme sinistra 3 e destra 3 attenzione stacca tornante sinistro stacca tornante sinistro bravo davidino il muro a destra 4 in sinistra piena vai centavista attenzione lei in basso stacca per tornante destro stacca per tornante destro sinistra 4 in destra 5 50 scicale intrasinistra 100 vista dai vai via fuori fuori a rail destra 5 30 attenzione scicale intrasinistra 5 30 attenzione scicale intrasinistra dai fuori veloce vai via via sinistra 3 lungo tieni lungo tieni lungo tieni tieni la corda bravo sinistra 3 tieni anche qua guarda la corda guarda la corda il binario vai 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 perfetto 100 attenzione al muro destra 5 30 molta attenzione stai a sinistra per bivio destro per inversione sinistra due tempi inversione sinistra due tempi 30 alla transenna non tagliare destra 4 50 fine in attenzione destra 2 destra 2 bravo davidino bravo 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 bravo